Niki Bus, no, Niki Bus no, dai, Niki Bus è proprio americano, dai, Niki Bus, e del Niki Bus l'ho saputo tramite Facebook e tramite il sito di Niki, e diciamo, le ho subito chiamato per dire voglio scendere, perché insomma è troppo divertente. Saremmo voluti partire anche con il treno, senza organizzare un pullman con lo sconto elettorale, non sarebbe scelto tranquillamente, sarebbe votato, però l'idea di partire tutti insieme, comunque di incontrarsi prima del voto, comunque era una bella idea, l'idea di potersi vedere prima, insomma, anche dopo, sperando, festeggiando. È stata la manifestazione di un desiderio delle persone di dire noi esistiamo e vogliamo ECCI. Dove poi ci stanno... Ah, a vero. A vero.